Benvenuti all'edizione del pomeriggio di Calabria News 24 in forma. Tutta la Calabria da giorni è interessata da un'ondata di freddo polare, forti nevicate anche su Cosenza e Catanzaro. Ce ne parla Stefania Scarfò. Non solo le vette della Sila, ma anche le principali città della Calabria sono state imbiancate dalla fitta nevicata che ha interessato la regione a partire dal pomeriggio di martedì 10 gennaio. Dopo una prima ondata che aveva investito il Regino, l'emergenza si è spostata tra Cosenza e Catanzaro, con sindaci di diversi comuni delle due province che si sono visti costretti a chiudere le scuole per la giornata di mercoledì. Niente scuola a Catanzaro, Cosenza, Crotone, ma anche a Rende, Castrovillari, Saracena, Gizzeria e Serrastretta. Condizioni incerte anche nelle prossime ore. Alcuni sindaci hanno deciso di prorogare la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di giovedì. Nevicate anche sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, l'Aex a Salerno, Reggio Calabria, tra Padula, Buonabitacolo e Sibari e tra Cosenza e Falerna. Transito consentito solo alle vetture dotate di pneumatici da neve. Non si sono registrati comunque particolari disagi. Il presidente della regione, Mario Oliverio, ha telefonato e subito dopo ha scritto una lettera al ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, chiedendogli di attivare con urgenza lo stato di calamità naturale in tutta la Calabria. Lo stato di calamità, informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta, a detta del presidente, si rende necessario a seguito degli avversi eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria negli ultimi giorni. La neve e le temperature estremamente rigide, infatti, hanno compromesso gravemente settori vitali per l'agricoltura e l'intera economia calabrese, quali l'agrumicoltura, l'ortofrutta e la vitivinicoltura. Le temperature rigide, tra l'altro, anche durante le ore diurne, hanno provocato disagi al settore zootecnico e ad alcuni prodotti depositati nei magazzini pronti per la vendita, che però, avendo subito dei congelamenti, non sono più commercializzabili. Dal canto suo, rende noto Oliverio, la regione Calabria ha attivato le procedure per avviare i controlli al fine di verificare tutti i danni subiti. Vediamo nel dettaglio quanta neve è caduta nell'area urbana Cosenza-Rende nel servizio di Dario Rondinella. Anche l'area urbana di Cosenza è stata imbiancata dalla coltre bianca venuta giù la notte scorsa. Circa 10 centimetri in tutto sono stati fiocchi di neve posatisi sul terreno. Una nevicata annunciata dalla Protezione Civile della Calabria nella giornata di ieri, come nel resto della regione, tant'è che i sindaci dell'intero comprensorio, a partire da quelli di Cosenza e Rende, per precauzione hanno diramato sempre nella giornata di ieri un comunicato stampa dove si annunciava la chiusura delle scuole di ogni grado. Mentre all'Università della Calabria sono state sospese le attività accademiche. Ad ogni modo non si sono verificati casi di incidenti e di altro genere che possono capitare in queste occasioni. La percorribilità delle strade è già in mattinata è ritornata quasi alla normalità, anche se gli organi preposti, come la Polizia Stradale o l'ANAS, raccomandano la massima prudenza e di mettersi in macchina solo se siamo uniti di gomme termiche o catene. A Reggio Calabria proseguono le udienze del processo Ulivo 99. Nuova tappa davanti al Tribunale presieduto dal giudice Fulvio Accurso per il dibattimento del processo Ulivo 99, che si sta celebrando in rito ordinario. Ieri è stata la volta dei testi della difesa. L'udienza si è aperta con un colpo di scena. L'imputato Angelo Scuteri, presente in aula, ha chiesto e ottenuto di rilasciare delle dichiarazioni spontanee. L'uomo ha così ripercorso come, quanto e perché ha conosciuto ieri no, su cui ruotò l'intera indagine. Con calma e tono sicuro ha spiegato punto per punto quelle che sono le accuse a lui mosse dalla direzione distrettuale antimafia Regina. Ha cercato così di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Scuteri è stato coinvolto nel blitz che scattò a settembre del 2014. Secondo l'accusa, avrebbe negoziato i carichi di coca con i cartelli sudamericani in nome, per conto di Giuseppe Ieri no, Maniglia. Scuteri è stato coinvolto con altre 12 persone nell'indagine denominata Operazione Ulivo 99 dal nome dell'account di posta elettronica utilizzata da uno degli indagati. Condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Roccella Ionica, gli arresti sono scaturiti dalle dichiarazioni rese formalmente nel 2012 da un collaboratore di giustizia che ha raccontato di fiumi di coca che attraversavano i mari i più delle volte erano nascosti nei contegni e trasportati sui mercantili. I militari dell'arma hanno trovato i riscontri alle rivelazioni dell'uomo, secondo i militari, il pentito e attendibile. Il collaboratore, scrivevano infatti gli investigatori, ha accusato se stesso senza che vi fosse un'indagine a suo carico. Le sue dichiarazioni appaiono genumine, dettagliate, spontanee e compatibili. Da qua scattarono le manette. Restiamo nel Regino, dove un uomo di 52 anni, fortunato Morabito, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari per minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. È successo a Villa San Giovanni, dove il 52enne ha minacciato e spintonato i carabinieri intervenuti perché aveva lasciato e incustodito il suo cane di razza pastore tedesco, creando allarme. I militari, giunti dopo la segnalazione di alcuni cittadini, hanno rintracciato il proprietario dell'animale per sottoporlo a controllo. Morabito, però, ha reagito spintonando e minacciando i carabinieri che lo hanno bloccato. Dopo una perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, che è stato immediatamente sequestrato. Nel Cosentino, da tempo, si registrano un susseguirsi di rapine, ieri presa di mira la BCC del Centro Cittadino. A cosenza ormai è emergenza rapine. Infatti, a distanza di qualche giorno, i ladri sono entrati nuovamente in azione. Ad essere presa di mira, questa volta, è stata una filiale della BCC Centro Calabria in Via Panebianco. Due persone, nel pomeriggio di ieri, armate di taglierine con il botto travisato da sciarpe all'apertura pomeridiana dell'Istituto Bancario, sono riuscite ad introdursi nei locali della banca. Hanno minacciato i presenti dipendenti e clienti hanno atteso con calma che si aprissero le casse forti temporizzate per circa un quarto d'ora. Hanno poi afferrato tutti i contanti all'interno e si sono dileguati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonterebbe a circa 90.000 euro. Sul posto sono intervenuti i polizi e i carabinieri che hanno iniziato le indagini e già visionato i filmati dalle telecamere di sorveglianza nel tentativo di risedire agli autori del colpo. E ancora a Cosenza, nell'Interland dove le fiamme gialle hanno permesso di riscontrare una mancata trasparenza per quanto riguarda i prezzi del carburante. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha eseguito una serie di controlli sul rispetto delle norme in materia di corretta esposizione dei prezzi dei carburanti e di comunicazione degli stessi all'osserva prezzi carburanti per la diffusione attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale. La comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che è dal 16 settembre 2013 obbligatoria per i gestori di tutti gli impianti di distribuzione di carburante dell'intera rete stradale deve avvenire settimanalmente o nei casi di aumenti anche a scadenza infrasettimanale. Per 12 dei 15 impianti sottoposti a controllo in diversi comuni cosentini è stata rilevata la messa a comunicazione del prezzo praticato all'assito del Ministero e sono stati redatti dei verbali nei confronti dei gestori degli impianti con la contestazione di sanzioni che vanno da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro. È stata una tre giorni dedicata all'enogastronomia quella che si è svolta a Corigliano Calabro con le imprese trentine che hanno fatto visita alla provincia di Cosenza il tutto nell'ambito dell'intesa siglata dalla Camera di Commercio di Cosenza e quella di Trento sentiamo il Presidente della Camera di Commercio appunto di Trento Giovanni Bort Questa idea che devo dire e devo riconoscere è venuta al collega Claus Algeri di fare un gemellaggio fra la Camera di Commercio di Cosenza e quella di Trento ha portato già dei risultati c'è stata una vostra presenza della provincia di Calabria e della sua Camera di Commercio in Trentino a presentare i propri prodotti e oggi noi siamo qui a presentare i nostri sono prodotti come dicevamo che in molti casi sono complementari e certamente questo facilita i rapporti facilita la collaborazione ecco noi abbiamo firmato un protocollo adesso la parola alle nostre imprese la parola ai nostri consorsi la parola ai nostri imprenditori per far sì che quanto abbiamo cercato di mettere in essere possa essere colto e sviluppato al meglio ecco c'è un altro aspetto che ci vede davvero complementari che è quello del turismo noi abbiamo delle località scistiche assolutamente di primo ordine con degli impianti di risalita certamente all'altezza delle esigenze di qualunque sciatore e voi avete un mare fantastico credo che anche dal punto di vista del turismo possiamo creare degli scambi fra i trentini che sempre di più scendono in Calabria e fra i calabresi che sempre di più scelgano il trentino come meta per le loro vacanze invernali la crisi idrica a Cosenza è stata superata ma si lavora per capire quelle che possono essere le criticità del sistema la crisi idrica degli ultimi giorni di dicembre che ha interessato la città di Cosenza è stata superata grazie al lavoro di Sorical e del comune di Cosenza l'emergenza relativa ad alcuni quartieri è ormai alle spalle e sono state incrementate le ore di erogazione nel centro città il tutto in attesa di nuovi interventi che possono fornire una precisa analisi della rete e possano evitare perdite dagli incontri tecnici quindi è emersa la necessità di risolvere il problema in maniera definitiva riducendo appunto i consumi data l'impossibilità di incrementare una fornitura idrica ai serbatori cittadini già superiore rispetto a quella degli anni precedenti è importante sottolineare come spesso i comuni intendono risolvere i problemi di distribuzione idrica chiedendo maggiori forniture da parte degli acquedotti regionali intanto è ovvio che gli acquedotti regionali non possono fornire una portata indefinitamente crescente tanto più quest'anno in cui le precipitazioni sono state più ridotte e le sorgenti che alimentano gli acquedotti hanno una portata inferiore è invece importante all'opposto che siano gli stessi comuni ad attivarsi per ridurre i consumi all'interno delle proprie vetti di distribuzione queste come nel caso di Cosenza hanno dei consumi di molto superiori a quelli che si dovrebbero normalmente verificare il progetto scientifico didattico pedagogia della resistenza dell'università della Calabria ha partecipato alla tombolata organizzata da resistenza antica morra organizzata per esorcizzare l'attacco intimidatorio di qualche settimana fa a Scampia in risposta ai proiettili spediti al lidere di resistenza antica morra Ciro Corona è stata organizzata nei giorni scorsi una tombolata antica morra dove i partecipanti hanno voluto portare la loro solidarietà al lidere di resistenza antica morra coniando anche un motto loro usano i proiettili noi diamo i numeri il giorno 1 gennaio abbiamo trovato qui nell'officina delle culture all'ingresso 5 proiettili non sappiamo ancora quale sia il messaggio di sicuro chi li ha messi voleva sicuramente intimidirci la risposta oggi a quel ricatto a quell'intimidazione è arrivata dal territorio l'antimafia oggi è cambiata non è più quella di ufficio non è più quella con giacca e cravatta è quella che si prende cura dei territori si prende cura degli spazi l'officina delle culture da questo punto di vista rappresenta un po' il simbolo degli spazi recuperati e restituiti al territorio oggi qui 13 realtà lavorano tra di loro insieme in sinergia dando alternative lavorative culturali lavorative professionali ai ragazzi del quartiere e ai detenuti l'era dell'antimafia è cambiata oggi è quella l'antimafia è quella che si sporca le mani sui territori sui beni confiscati facendo reti reti del fare e non quelle borghesi intellettuali tra i tanti che hanno preso parte alla tombolata Rocco Mangianardi Lametino imprenditore testimone di giustizia vuol dire che questi messaggi brutti che gli hanno mandato in questo periodo non sono altro che stanno a significare che loro sono dalla parte giusta ecco questo è il vero senso del del fare antimafia cioè fare oppure non predicare soltanto ma praticare praticare queste cose noi resistiamo perché vogliamo vivere senza vergogna e ce la stiamo mettendo tutta ce la stiamo mettendo tutta per dare un senso al nostro vivere quotidiano perché vogliamo vivere non da turisti ma vogliamo vivere da abitanti noi vogliamo abitare la nostra vita con Ciro e prima di chiudere vi informiamo che a Catanzaro è prevista entro la serata odierna la normalizzazione del servizio idrico nelle zone interessate dall'interruzione dell'acqua parliamo di Piterà Iano Ponte Grande Ponte Piccolo Madonna dei Cieli da via Luigi Rossi a via Indipendenza Materdomini Sant'Antonio è parte del centro storico l'ha comunicato l'ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che superati alcuni problemi sopravvenuti nelle scorse ore sono in corso di completamento le operazioni per consentire il riempimento dei serbatoi e garantire gradualmente la regolare erogazione dell'acqua anche ai piani più alti delle abitazioni e con questo è tutto io vi aspetto alle 20.45 sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre grazie per essere stati con noi a più tardi a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti